In battuta Rodriguez, continua con le battute corte, mettendo in difficoltà la formazione avversaria, difende Ciccola su Gavotto, palla a banda per Roni, ancora Ciccola che riesce a difendere, alla fine ce la fanno, questi non fanno andare giù un pallone. Ciccola per Travis, poi Roni, il muro ancora, palla per Roni, altro muro in difficoltà, l'acqua paradiso, il pallone torna di qua, ed ora Castellana Grotto può ricostruire per il punto che invece termina in favore dell'acqua paradiso, uno scambio lunghissimo.